Musica Buonasera, eccoci qui con la decima puntata della stagione di Vastese e dintorni, il format che racconta lo sport del territorio con un occhio di riguardo per la Vastese. Siamo come sempre alla Promo Tennis che ringrazio per l'ospitalità e ci troviamo in compagnia di due giocatori bianco-rossi, ve li presento subito, siamo in compagnia dell'attaccante Vito Leonetti e del capitano della Vastese Nicola Fiore. Grazie per essere qui ragazzi, io parto da te Nicola che hai il microfono, andiamo a analizzare l'ultima vittoria della Vastese in casa contro l'Agnonese, una vittoria sofferta, un 2-1 fondamentale ma soprattutto 7 risultati utili consecutivi. Sì, è stata una partita difficile perché venivamo appunto da una serie di risultati consecutivi e non era facile ripeterci in casa. L'Agnone si è dimostrata una squadra ben organizzata, è venuta a fare una partita di buon livello, però siamo stati bravi secondo me a fare una buona partita sul piano del gioco, siamo stati bravi a passare in vantaggio. E poi nonostante il pareggio devo dire che il secondo tempo abbiamo sempre cercato di giocare, di essere offensivi e quindi secondo me meritatamente poi abbiamo conquistato i tre punti. Vito, a decidere l'incontro una tua doppietta, sei in un ottimo momento di forma, non tutti lo sanno ma l'Agnonese è una tua ex squadra e tu l'hai punita. Come tu sai sì, è una ex squadra quindi era una forza in più per vincere questa partita, poi venivamo da questi risultati utili e quindi dovevamo far bene per continuare questa serie di partite positive. Tu sei un attaccante centrale, mister ti fa giocare largo, però ti trovi bene lo stesso nel tridente della vastesa? Sì sì, mi trovo lo stesso bene anche perché il mio ruolo di natura è una seconda punta, poi mi adatto sia a punta centrale che anche a esterno offensivo. Nicola, contro i molisani siete stati bravi a crederci fino alla fine, è quello che ha fatto la differenza? Sì, siamo stati bravi a crederci ma comunque in tutte le partite che abbiamo fatto soprattutto in questo periodo positivo abbiamo sempre giocato quindi anche ieri sapevamo che vincere sarebbe stato importante perché ci permetteva di stare agganciati al vertice anche se sappiamo che il nostro obiettivo è di fare un buon campionato però siamo consapevoli che soprattutto in questo periodo stiamo dimostrando di essere una buona squadra e quindi questo ci dà le motivazioni giuste per continuare così. Nicola, nelle ultime gare la vastese ha cambiato letteralmente marcia, da cosa dipende secondo te questo cambio di passo? Secondo me siamo stati anche dal punto di vista del gioco costanti, probabilmente abbiamo fatto due sconfitte, soprattutto quella in trasferta a Pineto in Meritata. Naturalmente nel calcio contano gli episodi quindi nelle due sconfitte sono stati a noi sfavorevoli però io penso che dall'inizio dal punto di vista fisico anche psicologico oltre che tecnico abbiamo dimostrato di essere una buona squadra quindi adesso siamo contenti di stare in questa posizione, sappiamo che abbiamo alle spalle anche un pubblico che penso nessuno ha nel nostro girone quindi cerchiamo di portarci dal nostro vantaggio. Vito ora parliamo un attimo di te, della tua carriera, Andrea Bari, Agnonese, Savoia, Acagras, Lumezzane, Regina, alcune delle tue squadre, alcune molto blasonate. Quale avventura di queste porti nel tuo cuore? Nel mio cuore porto Bari 2013, sarebbe quindi un anno molto importante per me e per la mia crescita, poi gli ultimi sei mesi passati dalla Regina sono stati fondamentali anche perché ho trovato un ultimo gruppo quindi sei mesi importanti che mi hanno fatto crescere tantissimo sia come uomo che anche come calciatura. Come mai hai scelto l'Avastese Vito? Ho scelto l'Avastese perché avevo tante offerte, ti dico la verità, in Serie D, però ho scelto l'Avastese anche perché mi hanno parlato bene di Nicola, poi avevo già qualche compagno, quindi mi parlavano molto bene, tifoseria e robe varie, quindi ho deciso di venire qua per far bene. Otto gol in stagione, sei soddisfatto di come sta andando la tua annata fino a questo momento sotto il profilo realizzativo? Soddisfatto credo di che stiamo facendo un ultimo campionato, quindi credo che il lavoro che facciamo durante la settimana si vede nelle partite che affrontiamo la domenica. Nicola, domenica prossima giocherete in trasferta contro il Fabriano Cerreto, che gara vi attende? Penso una gara come tutto in questo campionato difficile, sappiamo che il Fabriano ha sette punti, quindi ha sicuramente dei problemi dal punto di vista dei risultati, però andiamo in trasferta, quindi è una partita insidiosa, dobbiamo cercare di approcciarla nel modo giusto come stiamo facendo ultimamente, perché per noi è fondamentale fare risultato e dare continuità. Vito, si tratta di una squadra neopromossa, quella che affronterete, che nelle zone basse della classifica, questo non va presa sotto gamba? No, non va per niente presa sotto gamba anche perché, come ho già detto, contro il Montincelli credo che siano squadre formate abbastanza bene, quindi poi quando incontrano squadre che si trova in alto classifica ci mettono un più di impegno e quindi noi affronteremo la gara come quella di domenica contro l'Ognoniso. Vito, a tuo dire, quali sono le favorite di questo torneo? Credo che possono essere come la Matelic, che abbiamo già visto, poi abbiamo affrontato un'ottima Vispesser, che credo sia una delle più favorite di questo G9. Nicola, visto la posizione di classifica attuale, anche se è un po' presto per dirlo, la vastese deve ambire solo ai playoff o forse può sognare qualcosa di più? Diciamo che adesso dobbiamo mantenere i piedi per terra perché comunque questo è un campionato insidioso e l'anno scorso, per me che stavo qui, balzo di insegnamento, penso che dobbiamo cercare di vivere alla giornata. Siamo una squadra giovane, quindi abbiamo dei margini di miglioramento e allo stesso tempo ci saranno dei momenti difficili dai quali dovremo riuscire a risalire. Quindi sono dell'idea che dobbiamo cercare di vivere di partita in partita, poi naturalmente quando tra un paio di mesi, se saremo in una posizione di classifica buona, si potranno fare altri discorsi. Bene, allora noi torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Vastese e dintorni, io saluto i nostri ospiti e le ringrazio di essere stati qui con noi. Eccoci qui per la seconda parte del nostro format, siamo in compagnia dei ragazzi del San Salvo, sono con noi Antonio Polisena e Julian Weistein, grazie per essere qui con noi ragazzi. Partiamo subito con l'analizzare l'ultima gara di campionato contro il Real Giulianova, una gara che vi ha visto sconfitti per 3-0. Com'è andata questa partita Antonio? Buonasera, sapevamo che era una gara difficile, forse non proprio alla nostra portata, l'impegno ce l'abbiamo messo più che mai. Ovviamente contro la capolista non era facile ottenere dei punti, non sono queste le partite che servono a noi per raccogliere punti, però ovviamente prima riusciamo a trovare il risultato e meglio sarà il nostro cammino. Julian, il San Salvo non sta attraversando un buon momento, come mai? Cosa non funziona? Prima di tutto siamo stati un po' penalizzati, siamo iniziati in ritardo, che quello si sa, è anche vero che ormai le scuse sono finite, è arrivato un nuovo mister e stiamo cercando di metterci tutto per uscire in questa situazione. Non è una cosa che non funziona, a volte sono le partite che ci girano così, poi a volte c'è una disattenzione, siamo penalizzati di un errore di uno, di un errore di l'altro e alla fine paghiamo per queste cose. Antonio, quest'anno siete partiti con Francesco Di Bernardo, poi la squadra è stata affidata a Suero ed ora a Sgarri. Una serie di cambi, vi hanno fatto bene o no? All'inizio non trovavamo una soluzione, forse abbiamo visto che poteva essere il mister, dopo un paio di mesi ci siamo accorti che alla fine la squadra aveva bisogno di una figura che ci desse carica, grinta, è arrivato un signor mister che ha giocato, molto preparato, sa che cosa significa quello che passa nella testa dei giocatori, proprio appunto perché ha giocato. È arrivato in una situazione non facile e speriamo che ci fa riuscire al meglio il prima possibile. Julian, come si esce da un momento così difficile? Se avessi la risposta, guarda, sono usciti da un bel po'. Secondo me si esce pedalando e basta, dobbiamo ascoltare il mister, fare quello che ci chiede lui, metterci tutti al posto del 100% o del 120% e cercare di andare avanti, pedalando insieme, non c'è tanto da parlare da fare, è quello. Antonio, ci credete in questa salvezza? Siamo ancora nel girone di andata, c'è ampio margine per recuperare? Certo, sono molto fiducioso, mancano i risultati, prima arrivano e prima ci mettiamo in carreggiata, non credo che non sia la nostra portata, anzi per me è solo un periodo, prima riusciamo a ottenere punti e prima arriveremo al nostro obiettivo. Julian, ci sono diversi infortunati in casa San Salvo, Fonzino, l'ultimo è Luongo, manca qualcosina al di là degli infortunati a questa squadra per lottare per la salvezza? Oggi un po' di fortuna perché ci gira tutto contro e poi oltre ai risultati, l'ultima settimana avevi quattro giocatori infortunati, poi adesso si aggiunge anche Giovanni, che ci manca sicuro che ci manca qualcosa perché altrimenti non saremo in questa situazione. Ma come ha detto anche lui, sono fiducioso che si può uscire di questa situazione. Antonio, parliamo un po' di te, due stagioni nella Vastese, lo scorso anno poi al Miglianico e quest'anno a San Salvo. Al di là dell'andamento della squadra, come valuti la tua annata? Tutto sommato sta andando bene? Male non sta andando, ovviamente non facendo bene in generale tutti quanti risulta molto più difficile farsi notare e uscire fuori. Però ti sei già tolto la soddisfazione di qualche gol? Sì, almeno qualche gioia, però senza risultati alla fine sono poche soddisfazioni. Vai Stein, parliamo un po' di te, da quando è che sei in Italia, soprattutto ripercorriamo il tuo percorso, la tua carriera qui? Io sono arrivato in Italia nel 2004 e là ho fatto un breve periodo a Napoli, che facevo alla Cicco l'anno. Poi ho fatto un giro, sono stato in Israele, in Spagna, a Colombia, ho fatto in Argentina anche un anno e sono tornato nel 2013 praticamente qua, un intervallo di sei mesi in Grecia. Ho giocato due anni in Sardegna e due anni al nord, tra serie di eccellenza ho fatto quei quattro anni. Insomma sei un giramondo, qual è l'esperienza che più ti ha segnato dal tuo punto di vista professionale, che più hai amato? L'Israele è sicuramente stata quella che mi ha segnato di più, perché è dove ho fatto l'esordio in Serie A, dove ho giocato tre anni di seguito praticamente e là si vive un mondo completamente diverso a qualsiasi altro paese, soprattutto per la situazione del paese stesso. Antonio, da fuori, tu che sei un ex, come la vedi questa pastese quest'anno? È una grande corazzata, è partita subito bene, sta ottenendo sempre risultati, il pubblico a favore, è un grande mister, si spera che fa un bel campionato come sta facendo. Bene, Julian, domenica è andata a giocare contro lo Spoltore, una squadra che sta molto bene, vi ha dato una serie di risultati utili consecutivi, è terza in classifica, non è certo facile andare a giocare su quel campo? No, per noi nessuna partita è facile, noi dobbiamo cercare di fare il risultato sia con la terza in classifica che con la penultima, perché per noi sono tutte gare difficili tutta l'ultima partita della nostra vita, capito? Nel senso, dobbiamo lasciare tutto in tutte le partite e cercare di fare il meglio possibile, perché noi dobbiamo per forza uscire da questa situazione, la società sta facendo un sforzo importante e noi per forza dobbiamo fare qualcosa per uscire da questa situazione. Antonio, cosa serve per battere lo Spoltore domenica o almeno per fare punti? Cosa serve? Soprattutto la voglia, concentrazione, non mollare per 95 minuti, tanta grinta, visto che la tifoseria ci sta, ci segue, la società pure, non ci sta facendo mancare niente, di conseguenza ora tocca a noi andare al massimo. Julian, dal tuo punto di vista, quali sono le favorite di questo torneo? Io il girone questo non lo conoscevo tanto e per sentire dire per le squadre che abbiamo trovato sicuramente sono Giuliano, Valchietti e Paterno, che sono quelle tre che sono là a lottare il campionato in questo momento. Dal tuo punto di vista, Antonio? Il Giulianova è una grande corazzata, determinata, si vede, c'è grandi giocatori di livello, D'Alessandro che è stato pure a basso, poi ovviamente ci sta il Chiedi, Spoltore, ma secondo me la favorita è proprio il Giulianova. Bene, allora noi ringraziamo gli ospiti di questa sese rata che sono stati qui con noi, i giocatori del San Salvo, a me non resta che salutarvi e ricordarvi il nostro appuntamento con Vastese e dintorni ogni martedì su Vasto Web. Arrivederci!